Buongiorno a tutte e a tutti. Mi è stato chiesto di spiegare in pochi minuti in cosa questa crisi economica è diversa dalle precedenti. Ecco, inizio a dirvi di cosa non parlerò. Non darò le definizioni economiche e accademiche delle cause della crisi. Quella distinzione fra crisi cosiddetta di domanda, cioè la diminuzione di consumo e investimenti, e crisi cosiddetta di offerta, l'interruzione o la diminuzione della produzione. E nemmeno vi racconterò la storia di una crisi finanziaria che si ripercorre sull'economia reale. Queste presunte spiegazioni ritornano ormai da mezzo secolo, collegando i ripetuti crolli di borsa solo a speculazioni finanziarie. Si pensi al lunedì nero di Wall Street dell'87, alle bolle speculative sulle società della new economy intorno al 2000 e anche la crisi dei derivati finanziari nel 2007-2008. In realtà alcuni economisti sostengono che ormai da mezzo secolo si è fermata l'accumulazione capitalistica, perlomeno quella occidentale. E questo emerge non solo dal lavoro degli economisti critici, ma anche su studi per esempio sui prezzi delle azioni di borsa, che sono sempre più alti e divergenti rispetto ai profitti reali di quelle stesse società quotate in borsa. Insomma, il collegamento fra l'economia reale e la finanza è ormai impossibile da rintracciare e segnala il fatto che il problema sta proprio nell'economia reale. Ed è da questa che dobbiamo partire, cioè cosa si produce e come si produce. Eventi specifici determinati, anche di borsa, sono soltanto gli inneschi per lo scoppio di una crisi reale che esiste già e già latente. Ad esempio l'innesco del 2007-2008 sono stati i cosiddetti mutui subprime negli Stati Uniti, con il loro grado di insolvenza che è stata nascosta negli strumenti finanziari derivati e poi venduti in tutto il mondo. Ma discorso simile vale anche oggi per il Covid-19, visto che già negli ultimi anni molti soggetti istituzionali come il Fondo Monetario Internazionale o privati, come la Morgan Stanley o tanti altri, prevedevano proprio per il 2020 uno scoppio di un'impecisata crisi economica. Allora, dicevamo, economia reale, cosa si produce e come si produce. Partiamo da come si produce. Oggi si produce con la globalizzazione della produzione. Va ricordato però che la globalizzazione non è un fenomeno nuovo. Ha attraversato interamente il XX secolo e ha solo accelerato negli ultimi 30-40 anni, specialmente dopo l'apertura della Cina agli investimenti delle multinazionali occidentali, questo avvenuto a partire dalle riforme di Deng Xiaoping nel 78, e dopo il crollo del blocco sovietico, con gli investimenti delle multinazionali tedesche e altre in Est Europa. Da quel momento globalizzazione significa una cosa specifica. Significa una sempre più alta frammentazione della produzione mondiale con un'interconnessione delle economie mondiali. Ossia, quasi tutte le merci che quotidianamente compriamo incorporano i pezzi, i cosiddetti ben intermedi, prodotti in giro per il mondo. Oppure sono merci prodotte localmente, ma con macchinari che a loro volta incorporano componenti prodotte globalmente. In relazione a questo, il dibattito economico attuale si sta chiedendo quanto lo stop della produzione cinese prima ed europea statunitense oggi amplifichi la crisi, e poi se questa interconnessione globale diminuirà a causa del Covid-19. In altre parole, se ci sarà una deglobalizzazione con il ritorno di pezzi di produzione a casa, che piace tanto ai sovranisti, a partire da Trump. Ma noi già possiamo dire che sempre produzione capitalistica sarà con le stesse regole, anche se magari un po' meno globalizzate. Le sue logiche saranno quelle di sempre, le sue crisi saranno sempre le stesse e così anche le soluzioni. Ossia, come sempre in passato, si modificherà nel prossimo futuro l'organizzazione mondiale della produzione e di conseguenza l'organizzazione mondiale del lavoro. E come sempre sarà feroce la competizione fra i capitali afferenti alle diverse aree mondiali, quella che fa capo agli Stati Uniti, quella cinese, per non dire di quella europea che è anche molto conflittuale al suo interno, e poi conflitto fra questi capitali e i lavoratori. Secondo me però una differenza questa crisi ce l'ha rispetto alle precedenti. E riguarda l'altro aspetto che citavo, il cosa si produce a livello mondiale. Dopo le crisi precedenti infatti è sempre rimasta una bassa attenzione a cosa si produceva prima della crisi e a cosa si sarebbe dovuto produrre dopo. Insomma, dopo la crisi del 2007-2008 la produzione è proseguita come prima. Oggi ci facciamo domande diverse, più vicine al contenuto di cosa si produce. Ci chiediamo quali imprese rimangono aperte durante la quarantena, quali sono le produzioni cosiddette essenziali, ci chiediamo quanti posti letto in terapia intensiva si potrebbero avere se si producesse un F35 di meno. Molti si domandano se adesso si avrà la forza per chiedere un cosa produrre differente dal passato. Questa può essere una differenza di questa crisi. In conclusione, il Covid-19 non è un accidente esterno che ha causato la crisi economica, quello che spesso viene chiamato un cigno nero. Semmai solo un normale cigno bianco sporco di inquinamento, come la mamma gabbiano del romanzo di Sepulvera. E noi dobbiamo capire perché si è sporcato, ossia dobbiamo studiare cosa si produce nel mondo e come lo si fa. Questo è essenziale per capire la realtà globale in cui viviamo e anche le sue crisi.